Una domanda, una domanda, una domanda, un'impressione, ok, candidata per la lista dei giovani nazi deriva, giovani bastioni, tanto fai anche da me, ma io mi sono sbagliato a scrivere, a segnalare, allora, soltanto una domanda, che ruolo avete avuto per questa coalizione? Un po' importantissimo, cioè direi, abbiamo visto che il ruolo è veramente buono, e come vi impegnerete per i giovani per cambiare la città? Il tuo pensiero, soltanto il tuo pensiero, più forte. Aspetta ragazzi, ci impegneremo al massimo, daremo un sacco di cose per il giorno, tante cose, qui la città va viva, tante idee, nuove idee, sono tutti per compogliervi i giovani. Va bene, affossa.